Dolci, cioccolato, spettacoli e laboratori. Sono queste le quattro caratteristiche di Salerno Dolcissima, che torna nella città capoluogo con la sua seconda edizione. La manifestazione, che avrà durata di quattro giorni, avrà come obiettivo promuovere le attività laboratoriali che hanno ad oggetto la lavorazione, l'origine e le caratteristiche del cioccolato. A Salerno, fino al prossimo 3 novembre quindi, giungeranno i maestri cioccolatieri di rilievo nazionale con gli stand delle aziende provenienti da sette regioni italiane, tra cui l'Umbria, notoriamente patria del cioccolato, che sono installati sul lungomare nei pressi dell'Arenile di Santa Teresa. Numerosi quindi prodotti che i visitatori potranno gustare, che spaziano dal cioccolato grezzo senza zucchero ai cremini, dai cioccolatini cremosi a quelli ripieni alla strega e dalla melanurca. Spazio anche per il divertimento dei più piccoli, con Diventa Cioccolatiere per un giorno, che consentirà ai giovani visitatori di creare una tavoletta di cioccolato. Un evento che piace molto ai ragazzi e non solo. Anche quest'anno ci sarà uno dei migliori cioccolatiere d'Italia, che dimostrerà dal vivo come nascono questi dolci del cioccolato. È un evento importantissimo, organizzato ovviamente e patrocinato dalla Camera di Commercio, con l'amministrazione comunale, organizzata ovviamente da Italia Venti e CNA. Auguro a tutti i ragazzi di affluire qui a questa seconda edizione. Voglio ricordare che noi saremo aperti qua tutti i giorni, da oggi alle 10 e alle 24 fino a domenica. Oltre a trovare qui tantissimo cioccolato artigianale, in questi giorni saranno anche tantissimi eventi collaterali. In questo momento è in corso la fabbrica del cioccolato artigianale, che noi portiamo in giro un po' per il Sud Italia, grazie ai maestri cioccolatieri che vengono con noi da Perugia. Stamattina ci saranno le scolaresche di Bar e Anzalone, quindi voglio dire che ci sarà anche un momento di show cooking. Già da questa sera ci sarà anche Mirko della Vecchia, un cioccolatiere importante, famoso, che viene qui a fare due giorni con noi di show cooking. Ci sarà giornata in una cornice, in una location che veramente dà invidia, per cui accogliamo questo evento bellissimo alla seconda edizione, augurandoci che i cittadini serenitani possano gustare questi prodotti tipici, non solo campani ma anche regionali e nazionali. Questa manifestazione che c'è stata anche negli anni passati, ma la ripresa attraverso anche l'impegno della CNA consente di poter mettere in campo tutte le nostre eccellenze, dolcezze e anche artigianalità del cioccolato. Grazie a tutti.